Il gruppo Toto non vuole più le A24 e A25. Con una nuova lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture, Strada dei Parchi ribadisce l'assoluta volontà di recedere dalla concessione. La seconda emissiva arriva a due settimane di distanza dalla prima e il contenuto è sostanzialmente immutato. La società per azioni intende anticipare la rescissione del contratto, la cui naturale scadenza è prevista per il 2030. Questo perché la situazione è in stallo ormai da anni e nessuno sembra intenzionato a sbloccarla. Il piano economico finanziario, atteso da quasi un decennio, non è mai stato approvato, benché il Consiglio di Stato in questo tempo abbia nominato tre commissari ad hoc. L'ultima bozza, quella presentata dal commissario fiorentino, prevedeva graduali aumenti del costo dei pedaggi fino al 375% ed è stata bocciata dal CIPES. La mancanza del PEF rimanda a tutta una serie di lavori, a partire dalla messa in sicurezza delle infrastrutture, quella antisismica, le A24 e A25 sono ritenute arterie strategiche dal sisma del 2009, ma anche quella per l'attraversamento degli animali selvatici, di primaria importanza per delle autostrade che percorrono dei parchi nazionali. E intanto in quattro procure sono in corso delle inchieste per la mancata manutenzione dei viadotti. Strada dei parchi quindi con questa seconda lettera aumenta le pressioni sul governo e non è detto che la rinuncia sia solo un blef, infatti la società del gruppo Toto in caso di rescissione anticipata avrebbe diritto a un indennizzo, indennizzo quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro e la somma di varie voci tra cui mancata remunerazione degli investimenti, mancati incrementi tariffari, mancati introiti fino al 2030 e altro. Sullo sfondo una condizione economica già di per sé poco idilliaca, tra costi di manutenzione e oneri covid non rimborsati, il ministero è in debito con strada dei parchi per oltre 300 milioni, potrebbero essere 430 entro fine anno. Al contempo strada dei parchi, secondo la Corte dei Conti, è a sua volta in debito con Anas per circa 75 milioni. I sindaci intanto restano sul piede di guerra in attesa dell'aumento del costo di percorrenza del 34,5% già più volte rimandato. In un'audizione alla Camera il ministro Giovannini ha ribadito la volontà che l'attuale blocco delle tariffe, previsto al 30 giugno, venga prorogato al 31 dicembre. Una dichiarazione che seppur dovesse essere supportata dai fatti non soddisfa i primi cittadini, in quanto non si tratterebbe di una soluzione definitiva, ma di tenere sospesa ancora un po' questa spada di Damocle.